Mi dimetterò prima del verdetto sia di assoluzione che di condanna. Questo è quanto dichiarato all'Ars dal governatore della regione siciliana Raffaele Lombardo che ha riferito in Parlamento le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. Non aspetterò un verdetto per dimettermi che potrebbe anche essere di archiviazione o di assoluzione. Per carità un minuto prima mi dimetto. Se domani mattina questo dovesse succedere chiaramente darò seguito a questo mio impegno che tende a mettere al riparo la presidenza regione da un rischio, quello appunto di un rinvio a giudizio piuttosto che di una condanna. Ma in quel caso si vota in autunno. La mia è una scelta politica, non c'è dubbio. Ho detto con molta franchezza, non è che stiamo giocando. Qualcuno lamenta che qua si gioca. Io mi dimetto in maniera tale che se ci sarà tempo, potrebbe anche intervenire prima questo fatto, si voti entro l'autunno. Intanto oggi il governatore della regione si è presentato per la prima volta in aula al Tribunale di Catania per l'udienza del processo che lo vede imputato insieme al fratello Angelo per voto di scambio. Dopo la decisione del GP di Catania Luigi Barone di non accogliere la richiesta di archiviazione della procura, per Raffaele ed Angelo Lombardo l'udienza preliminare è stata fissata al prossimo 9 maggio. In attesa di conoscere i risvolti giudiziari del caso, in Sicilia potrebbe concretizzarsi l'ipotesi elezioni anticipate già a partire dal prossimo autunno. Alle probabili dimissioni del governatore infatti si aggiunge anche l'impugnativa del commissario dello Stato di 80 norme della manovra finanziaria approvata all'ARS. Per il commissario la manovra, così come è stata votata, esporrebbe il bilancio della regione ad un buco di circa 900 milioni di euro. Per sopperire a questo, entro il prossimo 30 aprile, il Parlamento regionale deve approvare una nuova legge finanziaria, pena lo scioglimento dell'ARS. Ma anche in questo caso il presidente della regione dichiara che il suo governo affronterà la questione per evitare lo scioglimento. State tranquilli, adotteremo credo le misure che siano possibili, che sia possibile adottare. E qua vedete io, non lo so, non ho letto ancora l'impugnativa, ma che mi salti il fotovoltaico, che non ci costava nulla. Istituivamo un fondo per aiutare le famiglie, le piccole imprese e le piccole società a realizzare impianti con i propri soldi, prestati dalle banche che però si sarebbero avvalse anche per una parte dal fondo della garanzia regionale. E che non si consenta un pezzo di decentramento, per esempio del sistema forestale. Certo senza nessun danno per gli operatori, ma con un grande vantaggio per il territorio che avrebbe potuto disporre di qualche migliaio di operatori antingenti o per curare anche il verde, per fare meglio il proprio lavoro, per carità, per avere una prospettiva più sicura. Certo la forestale, gli uomini insieme alle competenze e insieme alle risorse mi pare veramente strano. Leggeremo con grande rispetto e poi l'assemblea si determinerà.